Primi colpi di Badile per l'operazione 10.000 alberi per Padova per mano del sindaco Giordani e dell'assessora Gallani. Al parco Roncaiette c'è stata la prima messa a dimora delle essenze in un giardino pubblico. Sono alberi già formati, sono 83 specie diverse, le abbiamo scelte una per una per tutelare il nostro territorio, che siano resistenti, che facciano fronte ai cambiamenti climatici, che garantiscano biodiversità e perché cambino 10.000 il profilo verde della città. È un'operazione che al momento non è stata fatta in nessun'altra città d'Italia. Parchi pubblici, aree verdi, scuole comunali, sono 536 siti interessati dalle 10.000 piantumazioni. Nelle scuole l'attività di messa a dimora degli alberi è iniziata da qualche giorno, un rito collettivo molto apprezzato da bambini e ragazzi. Da qui, da novembre, con il mese dell'albero, fino a primavera, 10.000 nuovi esseri viventi arrivano a Padova. Un'iniziativa dai grandi benefici ambientali che proseguirà fino alla primavera 2022. Verrà studiata dall'università e i padovani potranno seguirla da casa. Sul sito troviamo tutte le aree, quindi si può andare a vedere vicino alla propria casa, nei luoghi che frequentiamo, di lavoro, nei parchi dove andiamo, dove arriveranno questi alberi, quanti.